Un doppio passo grazie a chi sta passando qua a tutti, grazie anche a voi, verso la salvezza, anche se manca ancora 90 minuti. Stasera è stato solo l'ultimo round che abbiamo vinto noi, grazie alla squadra, perché l'unione nostra è fondamentale, per quanto i meriti di Leo singoli siano chiari, ma non da stasera, da sempre, ma anche perché trova una squadra che non mette le condizioni per esaltare le progetti attivistiche. Un giudizio sulla partita, il Novara è partito bene, ha fatto bene nei primi 20 minuti, poi il gol ha dato un po' la svolta. Sì, ha fatto sicuramente una buona gara anche il Novara, io guardo in casa mia, è una gara molto difficile dal punto di vista emotivo, dove in particolare i cittadini potevano variare l'andamento, e anche l'atteggiamento dei stessi giocatori, di quello che fanno con i stessi giocatori. È una buona partita, ma ripeto, adesso diamo 5-12% su 5-12, per mantenere la categoria, perché lo vogliamo, perché noi lo vogliamo. Oggi, più che gli aspetti tecnici, tecnici, la voglia di vincere, e poi facciamo pettinelli tutt'assieme, sono troppo ruido. Ok. Sì. 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 Sì.